Allora, noi siamo una parte del team Ligure del Social Warning, parte del movimento etico digitale, e ci occupiamo di portare nelle classi, insieme a Progettiamoci il Futuro, quella che è la consapevolezza sull'uso del mondo digitale. È importantissimo per progettare il futuro dei ragazzi, riuscire a conoscere adeguatamente le potenzialità e i rischi del web. Ma l'importante non è solo demonizzare il web, ma capire che un utilizzo corretto dei canali social consente ai ragazzi di avere in mano un vero e proprio lavoro per il loro futuro e delle potenzialità molto importanti. Quindi riuscire a curare la propria immagine, riuscire ad adeguarsi a un mondo che cambia continuativamente e in cui loro sono inclusi, diventa fondamentale. Insieme a Progettiamoci il Futuro, Social Warning vuole dare una visione su quelle che sono le professioni digitali grazie a professori di fiore digitale come noi che tutti i giorni lavorano e hanno a che fare con questi metodi.